Finalmente il momento è arrivato. So che potrai esprimere le tue capacità al meglio. Sono sicura che gli uomini e le donne di questa città potranno avvantaggiarsi di una grande intelligenza, di un'onestà adamantina e degli anni di esperienza che hai maturato a fianco al tuo papà. In bocca al lì!